Ups a tutti, miei cari Upsini e Upsine Come state? Oggi sono qui solo per voi con questo nuovissimo microfono che mi è stato regalato per il mio compleanno perché dovete sapere che oggi che sto registrando questo video, sabato 30 gennaio, è il mio compleanno ed è anche il compleanno di una di voi che saluto proprio adesso, quindi ciao Denise, un bacione, buon compleanno anche a te e cosa farò nel video di oggi? Per provare questo nuovo microfono ho deciso che farò un tipo di world repetition con del tracing e tanti bei tricherielli, ok? Ma prima di cominciare mi raccomando indossate un paio di cuffie auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire, va bene? Prima di cominciare però mi piacerebbe dire una cosetta veloce veloce, da oggi ho anche io Instagram, quindi se volete in descrizione trovate come mi chiamo, che è Ups ASMR ovviamente, quindi se vi fa piacere andatemi a seguire e magari mandatemi un messaggio su Indirect, ok? quindi adesso si comincia torta, 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 torta torta, 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 torta coccoli 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 C O O L E Coccoli 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 Trottola 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 T R O T O L A T 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 tortellini 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 cocco 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 cocococo 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 o chi chi o cococo cocococo oops gotti gotcha colana 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 o l l a n collana 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 sport 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 s p o r d sport 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 cioccolato 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 L A T O cioccolato, 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 cioccolato Cucol C O O C L E Google 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 Parque 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 B A R G H E parche 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 bambu 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 b bambu 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 A-G-O-L-A Fragola, fragola Tappo, tappo, tappo Taiput! Taiput taip seriale! e come ultima parola Trigger 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 Quindi ragazzi Secondo me è giunta l'ora di darci la buonanotte Quindi Cucù Cucù Adesso tocca a voi Iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della Ups community E se siete dei maschietti diventare i miei upsini mentre se siete delle femminucce diventare le mie upsine Poi mi raccomando lascia un bel mi piace se questo video ti è piaciuto e commenta qua sotto tutto 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 quello che ti passa per la testa va bene? Il video di oggi purtroppo finisce qua ma se voi volete potete restare ancora insieme a me perché ora vi lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate quindi buonanotte ragazzi buonanotte fate un salto giù in descrizione e se volete andatemi a seguire su instagram ma adesso un bacio e buonanotte grazie 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 grazie